Buonasera mister, finita da poco Pedano Albese, 0-0, che partita ha visto e come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? Ho visto la partita che ci aspettavamo, la partita fisica maschica, dove penso abbiamo fatto un tempo a testa, loro bene nel primo tempo, noi nel secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, sono contentissimo perché ho scoperto di avere una squadra oltre che bella, una squadra di giocatori veri, maschia, mi sono piaciute tanto, nel secondo tempo a livello fisico sono stati devastanti, abbiamo fatto veramente bene, abbiamo concesso niente. Loro bene nel primo tempo, noi nel secondo abbiamo fatto benissimo, sono veramente contento, un punto pesante perché loro sono forti, ancora con Massucco, una squadra fisica tosta, una squadra difficile a giocare su questo campo, quindi sono contentissimo, un punto veramente meritatissimo, sono contento. Mancano poche partite ormai alla sosta, come hai visto questo inizio di campionato? Te l'ho detto, noi siamo là in alto, manca una partita al giorno di andata, abbiamo una sconfitta sola, quindi devo essere non contento di più. Ripeto, un gruppo costruito a luglio, con 15 giocatori nuovi da mettere assieme, quindi il lavoro è ancora tutto in costruzione, però oggi ho visto che ho anche altre alternative, ho visto dei giocatori che si sono adattati in certi ruoli, quindi li vedo bene, vedo bene i ragazzi, vedo che il lavoro sta portando i suoi frutti, quindi vediamo cosa succederà ancora, con 16 partite sono tantissime. Vi aspettavate un pedona così grintoso? Sì, sì, assolutamente sì, perché dopo quello che era già successo in Coppa Italia, sapevo che sarebbe stata questa partita qua. Poi loro hanno questa caratteristica, sono una squadra fisica, quindi hanno giocatori di altezza veramente impressionanti, quindi sulle palle in attiva hanno battuto le messe laterali come calcio d'angolo, però ti ripeto, sono contentissimo perché secondo tempo veramente ho trovato una grande squadra, la mia, veramente una squadra massima, una squadra vera di giocatori, quello che gli ho chiesto e gli ho visto, hanno fatto quello che volevo io, sono proprio contento.